Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Fortnite per andare a completare la sesta parte degli incarichi storia. Il titolo è Progressi nel Raft, dopo facciamo un attimino un riassunto di come ci eravamo lasciati l'ultima volta, ma intanto la fase 1 di 6 missioni è quella di trovare le istruzioni di Hope vicino alla corte di Doom, e infatti c'è il segnalino proprio qui alla corte di Doom. Prima di continuare col video, però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGY, GGY, tutto grande, tutto attaccato nei cozzoggetti di Fortnite, mi raccomando ragazzi, è davvero fondamentale per supportarmi, quindi controllate sempre che sul supporto a un creatore ci sia scritto GGY, tutto grande, tutto attaccato, anche perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo. Grazie velo di cuore a chi lo farà, è fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciate un bel mi piace per supportare la serie sugli incarichi trama, appunto, della storia di Fortnite. Andiamo a mettere pronte e vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Ok ragazzi, allora andiamo diretti alla corte di Doom. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che prima è arrivato Ashuri col suo piano ad utilizzare i rift, beh, eccetera, eccetera, per cercare di scaramentare via Doom dall'isola, non ci sono riusciti e quindi poi è intervenuto anche Iron Man. Come sapete ragazzi, ormai è arrivato Iron Man con tutte le sue tecnologie e ci sta dando, appunto, una mano per questa battaglia contro Doom. Al centro del progetto, chiamiamolo così, ovviamente c'è sempre Hope, però chiaramente Iron Man ha sempre un ruolo cruciale. Eravamo rimasti che dovevamo sconfiggere anche Emma Frost, dopo che due settimane fa avevamo completato le missioni contro Misterio, che erano state fondamentali per liberare, insomma, la popolazione dell'isola dalle illusioni, appunto, di Boss Misterio. E io devo stare molto attento perché qua c'è qualcuno che sta atterrando. Alla corte di Doom c'è sempre qualcuno che arriva comunque. Allora, prima li voglio killare, eh, perché se no... Ah, il bro stava fermo. Ah, fermi un attimo, eh, perché poi se iniziamo ad ascoltare e arriva qualcuno con cui devo fightare, non ci possiamo concentrare e io voglio ascoltare i dialoghi con calma. Allora, ecco nell'E1. Ma che cacchio ha fatto a spararmi da lì? Ok, va bene. Quindi era questa duo. Vabbè, tutto a posto. Allora, in realtà vorrei cercare anche degli shield prima. Mi faccio direttamente questo shieldone e poi ascoltiamo i primi vocali, i primi dialoghi, credo. Allora, eccolo qui. Tra l'altro proprio un telefono. LOL. Raccogli il telefono. Eccolo. Ehi, sono io. Scusa la segretezza. Siamo solo noi su questo canale. Ok. Emma Frost è una telepate. Schermare le comunicazioni è fondamentale. Tony ci ha dato degli smorzatori di energia per ridurre la sua influenza psichica. Controlla che sia tutto ok e preparati a combattere. Ok, quindi, allora, praticamente Tony, tra le varie cose che ha fatto, ovviamente, Tony Stark, Iron Man, ci ha appunto dato questi oggetti per diminuire questa forza di Emma Frost per poter captare un pochettino tutti i segnali e tutti i dialoghi che appunto i nostri eroi stanno avendo per sistemare la situazione con Doom. Ora, qual è la prossima missione? Usa una torre delle previsioni. Quindi mi tocca aspettare la torre delle tempeste e andarla a pushare sostanzialmente. Ok. Uh, regaluccio. Perfetto. Che così ci muoviamo anche più velocemente con i palloncini. Tra l'altro, ragazzi, ovviamente i video su tutte le novità sono già usciti, eh. Quindi mi raccomando, recuperatevi tutti i contenuti sul canale perché, come al solito, raga, carichiamo tutti i giorni, quindi non vi perdete i tutti i video giornalieri. Vabbè, comunque io nel frattempo adesso luto un pochino visto che tanto dobbiamo aspettare che spawnino appunto con le varie torri delle tempeste. Un altro pacco regalo, regalai, sono abbastanza facili da trovare a differenza di quando c'è il Natale che sono impossibili da trovare i pacchi regalo natalizi. Ok, vabbè, niente di che. C'è un altro medaglione, ovviamente, che non possiamo prendere. Eh, per muoverci gli artigli non sarebbero male, eh. Non potrei fare una cosa del genere perché, comunque, io, raga, lo sapete, quando faccio questi video sulle missioni mi concentro unicamente sulle missioni. Cioè, della partita non me ne frega nulla. Quindi, sinceramente, ok, prendere le armi migliori perché poi, se capita di fightare, dobbiamo fightare. Però, di sicuro darò sempre la priorità alla missione in sé. Anche per una questione pratica del video, insomma. Attenzione, potremmo trovare il kit da volo, però, eh. Perché col kit da volo saremmo ancora più veloci. Uh, un po' di fortuna per noi. Eh, no, questo non mi piace, in realtà, per com'è modificato. Quindi mi terrò... Vabbè, tanto pure questo non mi piace, ma è modificato. Intanto prendiamo quello viola. Ok, top, ragazzi. Top. Così col kit da volo andiamo ancora più veloci. E hanno preso pure il medaglione Doomstat nel frattempo. Io qui mi vorrei sbrigare a fare la missione, ma ancora... Oh, eccole. Eh, ti pareva tutte lontane. Mannaggia la miseria. Vai, vai, corri, corri, corri. Ok, regà, pare che nessuno li stia pushando. Quindi sbrighiamoci, perché in realtà sento fai dare qua vicino. Sentite gli spari? Allora, via. Via, via, via. A posto. Card per noi che non viene presa, perché ce sta questo sopra. Allora, vediamo se c'è qualche altro dialogo. No. Ok. Assolda un ricognitore o specialista delle scorte. Mannaggia la miseria. Ok, ce n'è uno in safe ancora. Ce n'è uno in safe ancora. Va bene. Andiamo da lui, sperando che non l'abbiano già assoldato. Ovviamente, regà, sto vedendo che sotto di me ci sono un sacco di avversari, ma non me ne frega niente, ovviamente. Andiamo diretti al sodo. Vabbè, comunque hanno utilizzato questa torre delle tempeste per, insomma, iniziare ad individuare Emma e i suoi scagnozzi, nel dubbio. Io, qui tra l'altro non ho neanche saltato, ma devo ricaricare le armi? Sì, direi di sì. Allora, andiamo a prendere le acque del Cerbero e andiamo verso l'MCC. Ok, mi sa che c'è ancora. No, hanno conquistato il treno. Non so quando, se adesso o prima. Io spero che sia una roba vecchia. Così almeno non c'è nessuno. Eccolo qui. Perfetto. Allora, assoldiamolo. Ok, dialogo? Tranquillo, puoi posizionare gli smorzatori. Ok, vabbè. Ok, quindi possiamo posizionare gli smorzatori. Penso verso il raft. Posizione di Tony Stark. Nel raft. Ok, però non mi sta assegnando nulla. Vabbè, andiamo verso il raft e spero che lì mi venga segnato qualcosa, effettivamente. Perché se no è un po' un problema. E poi scusa, hanno detto qui è tutto tranquillo, ma Emma sta al raft. Come fa ad essere tutto tranquillo, scusate. Vabbè, non sto capendo io probabilmente. Ok, regà. Sì, mi viene pingato. Perfetto. Ok, qua abbiamo anche l'MPC. No, ciao. Oddio mio, regà. Comunque ogni tanto mi si bugga con questi cavolo di palloncini. Allora, eccolo qui. Lo smorzatore. Ok. Primo è stato posizionato. Ne dobbiamo posizionare un altro là. Ah, ok, sono questi che devono smorzare l'effetto, diciamo, il potere di Emma. Ah, no, ma sto andando dalla parte opposta, regà. Aspettate, andiamo verso di là. Eh, vabbè, vabbè, vabbè. Uso comunque le impulsi, così almeno ci sbrighiamo. Bello, c'è un avversario qui. Mannaggia la miseria, mannaggia. Eh, vabbè, il palloncino, sempre i momenti sbagliati. Questo direi che ce lo killiamo, però. Ok. Ok. Perfetto. Va bene. Allora, ce n'è un altro qui di smorzatore da dover mettere. Poi pensiamo all'altro avversario. Sta qua dentro? No, sta sopra. Ok. Eh, vabbè, il palloncino, sempre il momento sbagliato. Ma basta. No, me lo tolgo sto medaglione, oh. Ma che poi, regà, cioè, si sono bombati Emma Frost e tutto, ma non hanno lutato qui a raft, praticamente. Cioè, mi segna tutto non lutato. Vabbè che c'è un sacco di lutto, quindi. Vediamo. Ok. Emma non è affatto contenta. Ebbè. Torna al canale di comunicazione principale. Dovremo coordinare un attacco. Ok, quindi. Rispondi! Lo so, Emma è furiosa. Ci stiamo lavorando. No, 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 è che, eh, 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 i segnalatori rilevano una presenza ostile. Una presenza ostile molto grossa. E si avvicina. Doom. No. Non siamo pronti, è troppo presto. Siamo pronti. Tu sei pronta. Come prima cosa neutralizziamo Emma. Poi sistemiamo il ragazzone. Ok. Mi serve un secondo. Ok, allora, allora, io già vi dico che sto per startare un altro game, nel senso che questo ormai è inutile continuarlo perché dobbiamo chillare Emma, regà, mannaggia la miseria. Vabbè, però c'è la corona. Dai, giusto perché c'è la corona proviamo a concluderlo e facciamo un attino il punto della situazione. Allora, praticamente, praticamente, che cosa stanno facendo i nostri ragazzotti? Inizialmente hanno iniziato a parlare su un, tra virgolette, canale di comunicazione privato, diciamo così, che Emma non poteva intercettare per coordinare questo posizionamento di questi disturbatori, in realtà potremmo chiamarli, inventati da Tony, appunto, per poter disturbare questo potere di Emma. Quindi adesso Emma non può più, tra virgolette, intercettare le nostre comunicazioni. Di conseguenza, possiamo organizzare l'attacco contro Emma Frost, quindi pensare anche a lei che a quanto pare è stramega furiosa in questo momento, ed è normale perché comunque stiamo preparando l'attacco contro di lei, e poi perché sicuramente si sarà resa conto di questi disturbatori creati da Tony. Detto questo, detto questo, adesso pare stia arrivando appunto Doom, quindi è come se avesse finito di preparare la sua armatura. Ora io sono molto curioso di sapere quello che sta succedendo in realtà, perché qui la situazione è un po' particolare, la situazione qui è un po' particolare, perché insomma non è stato specificato che è Doom, anche se però insomma ce l'hanno fatto capire. Quindi noi adesso sicuramente dobbiamo sconfiggere Emma, e poi probabilmente ci sarà una missione finale che ci introdurrà alla prossima missione, alle prossime missioni di settimana prossima. Ok, vabbè il bro pusha l'isola, ma è one shot, non mi sembrava proprio una mossa geniale, finiamo di conquistare l'isola, e ha pingato? Mi sa che ha pingato qualcuno raga, no mi sa che si ha pingato, e questo sarà sicuramente il compagno di quello che abbiamo appena killato. Salirà pure lui one shot? Sì, mi sa che salirà pure lui one shot, stavolta ne abbiamo pingati di più ma mi sa che sono gli scagnozzi, si ha pingato gli scagnozzi. Andiamo a lutare quello che abbiamo trovato conquistando l'isola. Uh, aspettate c'è una cesta leggendaria qui però eh, la cesta leggendaria si luta sempre, e infatti si luta sempre la cesta leggendaria, bello, assolutamente. Sì, preferisco questo, ma sapete che ve dico? Io comunque le modifico, tanto se abbiamo detto che la vogliamo vincere sta partita, tanto vale andare al banco da lavoro qui e andiamo a vincere sta partita. Questo che è modificato male lo andiamo a modificare per bene, mi sa che pure il percussore non è modificato proprio benissimo eh. Ok, no vabbè, no, in realtà era modificato abbastanza bene il percussore. Ok, regà, ci abbiamo degli avversari lì, esattamente lì. Possiamo fare una cosa molto cattiva. Possiamo fare una roba molto, molto, molto cattiva questa qui. Oh mio Dio, ci hanno tutte e due i cosi. Forse un po' troppo cattiva, che non credete anche voi? Forse l'ho fatta un po' troppo cattiva la situazione qui. Ma che è di nuovo il coso, mamma mia, regà, di nuovo il palloncino, manco me l'ho reso conto. Ma zio pera, ragazzi, zio, zio, zio. Allora, fermi tutti, prendiamoci tutti gli scildoni, ci fuliamo. E stanno arrivando i medaglioni, eh. Stanno, infatti pensavo potessero essere loro, ma effettivamente non li segnavo in mappa, vabbè. Ok, no! Mi hanno spaccato, regà. Giustamente. Mi hanno spaccato giustamente. Aspensione. Vai, 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 NFC. Ok, mi si sta caricando sopra il scudo. Gli ho rotto lo shield. No, no! Ma lo finisci? Lo finisci, per favore? Lo finisci? Grandissima! Grandissima! Tra l'altro questi erano quelli che avevano il medaglione del raft. Sì. Eh, infatti, avevano pure il coso dei dem. Vabbè, vabbè, vabbè. Non credo di prenderlo, però. Non avevano cure, raga, eh. Avevano giusto... Ma dai! Ma che è sta schifezza? Ci abbiamo dieci kill, ma io ne ho fatte solo nove. Mi fa troppo ridere sta cosa. Grande il nostro NPC. Dunque, raga, tra il medaglione di Emma Frost e l'NPC questo qui che spotta, praticamente ogni due secondi... Cioè, spotto praticamente intorno a me. Incredibile sta cosa. Allora, pusciamo... Questo medaglione, va? Sì, andiamo lì addosso. Che poi, tra l'altro, prima ho visto i medaglioni stavano vicini. Pensavo si stessero pusciando. Invece... Invece no, col cavolo. Allora, andiamo un po'. Dove stanno? Stanno qui. Disegna gli spari qui. Eccoli qua. Sì, 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 sì. Mamma mia, li prendo pieni. Col cavolo. Mannaggia, ragazzi! Oh, ma sempre nel momento sbagliato i cosi? I... I palloncini? Non è laserata, ragazzi. Gli abbiamo tirato a questo. Mi sa che non erano quelli col medaglione, eh? Mi sembravano un pochino troppo scarsi. Questi mi sembravano un pochino... Eh, quelli col medaglione sono altri. Eccoli lì. Eh, infatti. Palese. Mi sembrava un attimino stranessi. Mi sa che erano proprio dei bot. No, me l'ha fatto fuori! Aia. Dai, percussore, quanto si mette ricaricate? Ok. Aia. Ok, meno male sta colonna resisteva. Aia. Eh, regà, fa malissimo. No, no, due di vita, regà. Con due di vita. Ed erano gli ultimi. Con due di vita. Ma stiamo scherzando. Ma che sfiga. Ok, regà. Allora, andiamo dunque al raft per provare a killare sta cara Emma Frost e vediamo un pochettino quale sarà l'ultima fase di queste missioni. Eh, regà, c'è un bel po' di gente. Va bene. Ok. Oh, mamma mia, regà. Ormai se c'è qualcuno a terra non ti fa più lutare nulla. Cioè, la cesta non me la stava facendo lutare perché c'era quello lì a terra. Allora, uh, qua le torte stanno sopra. Figo. Molto figo. Uh, uh, uh. Ok. Ok. Tra l'altro mi sa che sta continuando a non darmi la missione delle torte, regà. Veramente spettacolare. No, non voglio. Mannaggia. Ok. C'è qualcun altro? Sì. Sta qua fuori. No. Ok. Mamma mia, regà. Dai, sono finiti. Quanta gente c'è stava. C'è altro modo. Spero di riuscire a killare abbastanza tranquillamente, ma perché ho sempre la paura che parta qualche dialogo e non riusciamo ad ascoltarlo per bene. È sempre quella la mia paura quando faccio sti video sulla... sulla trama. Ah, di nuovo il pacco regalo, regà, ma vedo di averità. Stavolta penso proprio che me lo prendo il medaglione. Cioè, l'ultima artista da... Vabbè, no, sempre giusto per il movement. Come movement, regà. Vediamo un po'. Poi, in realtà, non so quanto sia buono, effettivamente, eh. Però... Allora, andiamo. Da Emma. Eccola qui. Ok. Sempre il palloncino maledetto. Me la vorrei provare a fare tutta con le doppie mitragliette, ma... Non credo che ce la facciamo. Cioè, ce la metto troppo. Allora. Punto rosso. Aia. Stanno andando un pochino troppi scagnozzi per i miei gusti. Ok. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Non posso. Non sei nemmeno a fare. Eccellente. Eccellente. Stavo scendo di testa. Proprio quando serve che mantenga la calma. Sai, gli eroi delle antiche profezie amano dipingersi come baluardi incrollabili. Ma non lo sono. Gridano. Piancono. In rare occasioni distruggono un secchio. E sai perché? Perché vogliono fare la cosa giusta. Se tu mi schiaccia che importa quel che voglio fare? Hobe potrebbe schiacciarti come una formichina, certo. Ma la tua determinazione è il tuo ardore combattivo anche di fronte al pericolo. È per quello che ti seguono, Hobe. È per quello che sei un'eroina. Quindi faccio che devi. Grida. Piangi. Usa il secchio. Prova. Perché se provi puoi vincere. Vabbè, raga, in poche parole Hope c'ha sempre una delle sue crisi. Oh, finalmente ho trovato la pistola pirotecnica a razzi, raga, che fino adesso non l'avevo ancora mai trovata. Incredibile. Vabbè, dicevamo. Hope, come al saluto, ha una delle sue crisi perché non si sente all'altezza, non si sente abbastanza. Diciamo perché tutti dicono che so io quella che deve salvare la situazione, bla bla bla, eccetera, eccetera, e l'oracolo gli dice ma guarda che è normale che c'hai ste crisi. Insomma, l'oracolo sta a fare un po' da psicologa, ma è anche lo stesso Jones in realtà. Gli sta dicendo guarda è normale, gli eroi si amano dipingersi come perfetti, spavaldi, che non hanno paura di nulla, ma in realtà tutti gridano, piangono, hanno delle crisi. Comunque, con delle battaglie molto importanti è normale avere certe situazioni, no? Quindi in poche parole cerca di tranquillizzarla in questo modo. Oh, madonna santa, ha fatto prendere un colpo. che stanno... stanno qui. Tutti i... gli NPC, aspettate però, questi li abbiamo. Termi tutti, ma sempre per il discorso e se poi parte qualche dialogo me lo voglio ascoltare per bene, eh. Ok, vabbè, non erano niente di che. E ci facciamo anche lo shield, va, senti che ti dico. No, dai, che si sono triggerati quelli, ma perché si sono triggerati quelli che vanno mo' da me? Mo' questi mi pushano, come minimo. Eh, ve l'avevo detto e mi avrebbero pushato. Allora, ecco qui, hop, parliamo un attimino, chiudiamo la porta, via. Credo che siamo pronti ad affrontare dubba, ma fino a due secondi fa dicevi di no. Più pronti che mai, lo ammetto a paura, ma lo faccio lo stesso. Eh, non posso permettere la... non posso promettere la perfezione, ma prometto che finché sarò in piedi io combatterò. Vabbè, ok, quindi ci siamo, ci siamo, ci siamo. Io credo e spero che comunque prossima settimana arrivino altri dialoghi, altre informazioni, altre situazioni, anche perché comunque abbiamo sconfitto Misterio, abbiamo sconfitto Emma Frost, sappiamo che Doom sta arrivando, quindi credo proprio, ragazzi, che poi arriverà anche la battaglia finale. Battaglia finale, ragazzi, che direi è proprio il momento giusto per parlarne, perché c'è questa teoria su Jonesy, di cui si sta parlando in realtà da inizio mese, più o meno, più o meno, inizio mese, che vede questa come l'ultima battaglia di Jonesy su Fortnite. Ora, raga, Jonesy è praticamente il personaggio più antico della trama di Fortnite, praticamente, è quello che c'è sempre stato, sostanzialmente. Se possiamo dire, in realtà, è anche un po' il protagonista, cioè nel senso non vedo altre persone che effettivamente potrebbero essere il protagonista di questa storia, nel senso che magari durante questa stagione la protagonista effettivamente potrebbe essere Hope. Però ragazzi, Hope è un personaggio decisamente recente, io sto parlando chiaramente di tutta la storia di Fortnite e dal capitolo 1. Ora, torno a ripetere, questa è una teoria. Torniamo a fare un po' i video come ai vecchi tempi dove facciamo proprio dei video totalmente dedicati alle teorie, totalmente dedicati alla trama, tanta roba. Mi sto ridivertendo, devo dirvi la verità, come le care vecchie GG News, che poi in realtà le GG News inizialmente erano nate per questo, tra le altre cose. Ah, e comunque detto questo, ripeto, è una teoria, quindi prendetela con le pinze. Non è una teoria mia, ripeto, è stata un po' già discussa anche da tanti altri creator, soprattutto su Twitter o meglio X e quel che sia. Allora, c'era stata, cioè era stata trovata nei file di gioco, pare non sia ancora uscita però come schermata di caricamento, una schermata in cui Hope durante una battaglia ha uno scudo di Captain America distrutto. Ora, Jonesy, che cosa ha nel suo inventario, tra virgolette, ha lo scudo di Captain America? Cioè è stato un po' rappresentato come il Captain America di questa situazione. E quindi questo ha fatto insospettire moltissimo i leaker o comunque chi tratta la trama di Fortnite sui social e quindi se n'è parlato. Se n'è parlato anche per quale motivo? Perché in uno dei dialoghi dell'oracolo si parla di un futuro decisamente darkness, quindi prendo oscuro per Jonesy e uno dei dialoghi con l'NPC di Jonesy allude al fatto che questa potrebbe essere l'ultima battaglia, la nostra ultima battaglia. Ora, 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 nei vari dialoghi l'oracolo diceva proprio che Jones avrebbe avuto problemi proprio con un'ultima grandissima battaglia. Ora, quella che si prospetta con Doom sembra essere proprio una battaglia abbastanza che si presta, diciamo così, abbastanza proprio a questo concetto di ultima battaglia incredibile e pazzesca. Non solo, ragazzi, Jonesy bene o male in questi ultimi dialoghi col suo rapporto con Hope sembra comunque una persona tranquilla, serena, che ha raggiunto la sua tranquillità, diciamo così, quando invece sappiamo quanto è stato tormentato, no? Il suo rapporto con l'ordine immaginario, il fatto che ormai da centinaia di anni lavorasse con l'ordine immaginario e che fosse ormai entrato in un loop che per salvare la famiglia doveva appunto continuare a collaborare con loro, poi si è ribellato, insomma, ci ha avuto un passato travagliatissimo. E proprio per questo non essendo neanche più con l'ordine immaginario non ha neanche più tra virgolette l'immortalità o comunque quei poteri che gli consentivano di essere immortale, ovvero appunto quelli dell'ordine immaginario. E quindi, raga, cioè, sembra proprio se vogliono fare una cosa cinematografica sembra proprio quella situazione in cui, ok, questo personaggio ha dato tutto, per noi può morire. Ecco, detta proprio in poche parole. Ora, se volete tutto questo argomento, Ari, lo possiamo anche approfondire, direi che per un personaggio del genere ci starebbe fare un bel episodio totalmente dedicato a lui dove magari ripercorriamo proprio anche tutte quelle che sono state le gesta tra virgolette di Jones, tutte le cose che gli abbiamo visto fare quando l'abbiamo conosciuto eccetera eccetera. Direi che potrebbe essere una cosa figa da fare per un personaggio secondo me, appunto, ripeto, se lo merita assolutamente e vi dirò poi anche un po' la mia nel senso che adesso noi abbiamo già fatto tutto sto video, abbiamo già parlato ampiamente di tantissime altre cose mi sembra quasi inutile adesso starne a parlare qui ora non vi nego che mi dispiacerebbe un sacco anche perché ripeto era l'unica vera costante nei vari capitoli che tenesse un po' in vita questo concetto di trama allungata di Fortnite no? Perché come abbiamo visto negli ultimi capitoli ragazzi soprattutto nel quarto e questa cosa è continuata abbastanza nel quinto Epic ha sempre fatto delle stagioni con una trama fine a se stessa durante quella stagione anzi diciamo che in questo quinto aveva un po' ripreso effettivamente a ricollegare le cose tra una stagione e l'altra abbiamo visto che nella prima stagione è arrivata la box di Pandora nella seconda stagione comunque poi ci sono stati tutti insomma i miti greci eccetera eccetera no mi sa che ho scambiato e ho perso un attimino qualche stagione di qua e di là però comunque insomma c'è stato un po' un filo logico tra una stagione e l'altra tramite anche gli eventi no? l'evento finale che si ricollegava a quello della stagione prima e che ci ripresentava nella trama della stagione dopo cioè insomma abbiamo visto delle cose secondo me molto interessanti da questo punto di vista tant'è che come avete visto proprio in questa stagione anche io mi sono riavvicinato totalmente a quella che è la trama di questo gioco che tanto abbiamo amato e che tanto in realtà ci ha accompagnato con le gg news cioè io mi ricordo perfettamente ragazzi che dopo il capitolo 3 con l'arrivo del capitolo 4 che ho un po' smesso di portare gg news sotto questa forma da questo punto di vista della trama eccetera eccetera con le teorie io ho sempre visto un sacco di gente che mi chiedeva altre gg news per parlare della trama eccetera eccetera però per me c'era veramente poco di cui parlare se non nulla diciamo che lo strapiombo ce l'abbiamo avuto nella seconda stagione del capitolo 4 quando poi non hanno più ripreso tutto quell'argomento con Amy i 7 eccetera eccetera e infatti raga qui arriviamo all'unica cosa che mi allungherò a dire ovvero il fatto che porca miseria ormai ci aspettavamo magari un ritorno dei 7 ormai con Jonesy ci aspettavamo qualcosina in più magari anche nel prossimo capitolo eccetera eccetera e invece sembra che andremo a perdere un pochino tutto quanto così ora è cambiata molto Epic Games sotto un punto di vista della gestione artistica del gioco perché sapete che non c'è più Donald Mustard ormai da più di un anno c'è un nuovo direttore da quel punto di vista e che in realtà secondo me sta facendo anche cose molto buone cioè secondo me ragazzi Fortnite si è anche un po' ripreso negli ultimi anni anche grazie a questa cosa quindi io non mi sento di criticare quello che sta facendo probabilmente vuole un attimino cambiare vuole dare un suo tocco tra virgolette a tutto ciò e si sente di non poterlo fare magari legato a quella che era la vecchia trama quindi magari probabilmente in un futuro andremo a rivedere i 7 ma magari sempre per sbolognarseli di nuovo per ritogliersi e non vederli più anche se ragazzi sui 7 lo sapete io ho tutta una teoria mia che l'hanno fatta un po' fuori dal vaso mettendo Brilarson con Paradigma e The Rock con appunto fondazione cioè tu vai a prendere due attori di quel calibro io non vorrei che il problema siano adesso i soldi per pagare questi attori tra virgolette no? cioè tu adesso con i 7 sei legato a quei due attori mannaggia la miseria perdere di nuovo contro i profulsori di Iron Man no però eh che cavolo mannaggia la miseria guarda il danno che mi hanno rifatto incredibile vabbè non c'è uno shield questi vabbè però mi sembra che nel bunker qui ce ne fosse qualcuno quindi ecco la situazione è un po' questa io spero di no ripeto questa è una teoria però sinceramente ragazzi a differenza di tante teorie che io ho sempre detto boh regà non lo so questa ragazzi devo essere molto sincero mi sembra molto credibile cioè porca miseria potrebbe effettivamente essere così ripeto spero di no ma solo col tempo lo scopriremo secondo me già con le prossime missioni comunque con i prossimi leak che usciranno con l'aggiornamento di martedì perché martedì dovremmo avere un altro aggiornamento uno degli ultimi di questa stagione sì è stato il penultimo e avremo già tante risposte perché nei file di gioco verranno aggiunte tante cose quindi raga mi raccomando rimanete sintonizzati non vi perdete tutti i prossimi video perché ne succederanno delle belle secondo me ne succederanno delle belle detto questo spero ne succedano delle belle anche in questa partita perché vorrei detto molto sinceramente vincerla dopo aver perso in quel modo quell'altra raga ho sentito degli spari qui ma non ah ma c'è uno lì ma questo quando è passato raga mamma mia raga ci stiamo prendendo la mano col vampa ma non ho movement raga sono un pollo mi sa che prendo qualche macchinina oh mio dio raga ho preso il volo ok ma come ah no non ho preso danno ok era il danno della tempesta stavomi per infazzire fermi tutti ragazzi perché qui ho rischiato forte qui ho rischiato forte e qui si stanno faitando li provo a mettere sotto ma sì dai proviamoli a mettere sotto madre mia ragazzi che botta gli abbiamo dato mamma mia raga plaserati distrutti smolecolati questo anticolpiciato ok sei vediamo un po' dove sono questi nemici se me li pinga non me li ha pingati tra l'altro abbiamo anche il medaglione di emma giustamente vediamo un pochettino che cosa succede allora questi mi sembrano dei bot ho detto proprio molto sinceramente sì sì non si stanno neanche girando me la prendo proprio con calma perfetto eh quello no però quello ragazzi è palesemente un player che ha preso il volo col palloncino e che mi vuole pushare mi sta pushando con gli artigli cattivissimo va bene bro ma c'è tanta gente che pusha così con gli artigli stimonelli maledetti no di nuovo dai propulsori ripeto non ci voglio morire grazie per favore eh eh regà io non ho non ho neanche più movement eh ok sta lì prendiamo la macchina però ok che si ah si sta allutando la cesta leggendaria che pensate che me ne andassi a dove volevi andare bro dai allora no rimango con questo pump regà che ce lo siamo modificato per bene quindi non lo lascerò per nulla al mondo il kit da volo non lo prendo perché in realtà come movement per l'endgame non è che sia proprio il top oh 20 kill alla fine abbiamo fatto tra una chiacchiera e l'altra regà ok abbiamo fatto un'ottima partita eh che spari ci sono qua vediamo un po' questi cattivoni mi sei solo gli ultimi raga me l'ha rubato no ok no è mio no ok sono rimasto 1v2 ma c'era una terra qui quindi una volta che ho finito questo siamo 1v1 ok perfetto e dove sarà però quest'ultimo non non stava qui col compagno evidentemente oh me l'ha fingato ok me l'ha fingato raga ma non capisco dove ah ah meno male che un bot raga non l'ho neanche visto dai let's go dai perfetto ah non ce l'avevo più la corona giustamente l'abbiamo persa prima è il palloncino a caso detto questo ragazzi mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti sia delle missioni ma anche di quello di cui abbiamo parlato per quanto riguarda jonesi vorrei fargli un video dedicato ovviamente aspettiamo che accada il tutto perché finché è una teoria rimane lì per me appena vediamo che c'è qualche prova concreta in più o comunque effettivamente succede qualcosa allora a quel punto facciamo il video ma voglio vedere tanto bel supporto con un bel mi piace e fatemelo sapere nei commenti ma soprattutto ripeto nei commenti vorrei sapere proprio un vostro pensiero al riguardo vi ricordo ovviamente anche il codice creatore ggyt tutto grande tutto attaccato nei negozi oggetti di fortnite fondamentale per supportarmi iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto appunto lasciate un bel mi piace per me è tutto ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale ciao ragazzi a lì